ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi sono in camera anziché nella solita postazione e ho alle mie spalle una libreria verticale quindi sicuramente avrete notato la pila di libri non sono appoggiati a caso ma è proprio una libreria verticale e ho pensato di farvi vedere quali libri ho messo nella libreria quindi sarà uno di quei video dedicati a cosa c'è nella mia libreria però anziché quella tradizionale ho pensato di farvi vedere questa che è un po particolare perché appunto è verticale ma non ci perdiamo in lunghe premesse e cominciamo subito prima di farvi vedere i libri uno per uno vi do una visione d'insieme come vedete io l'ho messa vicino all'armadio e vicino alla porta della camera quindi è poco invasiva perché occupa veramente pochissimo spazio ma ci stanno tantissimi libri come potete vedere quindi veramente una pila di libri messi in un angolino della camera in modo da liberare tanto spazio nell'altra parte di libreria però adesso vediamo uno per uno tutti i libri che ho messo iniziamo con questo città di spettri che è un libro che ancora non ho letto mi avevano regalato a natale qualche anno fa ma ancora non ho avuto l'occasione l'uomo che sussurrava i cavalli molto bello sia il libro che il film 27 marzo della linea personology questo è un libro che ho letto un po così diciamo in consultazione ma non è niente di che racconta le caratteristiche dei nati il 27 marzo iliade e odissea di omero spettacolari invenzioni mirabilanti scoperte e meraviglie degne di nota questo è un libro di abie editore molto bello ben illustrato ma sinceramente ne ho letto poche pagine cartomante per necessità un libro molto particolare che vi avevo accennato ricordo in un video di qualche anno fa il sentiero dei profumi di cristina caboni un libro carino questo con la sovracopertina bianca che sicuramente non riuscite bene a vedere perché è molto spessa come sovracopertina si intitola la casa infestata di plas du lion d'or però ancora non l'ho letto navi e poltrone libro molto vecchio che era di mio nonno grimorio anche questo è un libro che ho letto in consultazione ma mi mancano ancora delle parti spettriana storia di fantasmi dell'antica europa questo si intitola eccomi qui ed è un libro che è con me praticamente da quando sono nata me l'aveva consigliato mia mamma lo avevano regalato a lei quando aspettava me quindi quando era incinta e poi nel tempo me l'ha fatto leggere veramente carino perché racconta la gravidanza dal punto di vista del bambino quindi un libro un po diverso dal solito qui un libro famosissimo viaggio al centro della terra come in una favola un libro che avevo iniziato a leggere che poi avevo interrotto ma che vorrei riprendere racconta la storia di una psicoterapia ma dal punto di vista della psicoterapeuta quindi da quello che ho capito racconta un po un suo metodo che ha in qualche modo a che fare con le fiabe la villa delle stoffe un libro che ho comprato tantissimi anni fa ma che non ho ancora letto la gemella silenziosa invece l'avevo letto un po di tempo fa e mi era piaciuto sette chilometri da gerusalemme un libro che mi ha consigliato mio papà ed è veramente carino mi è piaciuto molto tempo d'estate questo è un classico harmony proprio un libro semplicissimo da spiaggia è carino perché comunque la storia era carina l'avevo letto perché me lo ero praticamente ritrovato in casa per caso e in quel momento volevo leggere una cosa estremamente leggera quindi sicuramente un harmony faceva al caso mio in quel momento questo è un libro molto bello dolce cara odrina di molti di questi libri peraltro trovate la recensione sul mio canale la rilegatrice di storie perdute di cristina caboni anche questo molto bello qui invece ho un vecchio libro che avevo trovato in un mercatino delusato per un prezzo veramente stracciato l'avevo pagato forse 50 centesimi e contiene una serie di storie ma in un unico volume il codice rebecca la camera delle signore il treno della paura e una voce nella notte questo libricino nero che quasi non si vede il testamento di magdalen blair sinceramente non mi ha entusiasmato gialli da cinque minuti è un libro molto carino perché è interattivo quindi praticamente voi dovete in base agli elementi forniti nel libro trovare la soluzione quindi indagare poi la scienza dell'agopuntura un libro abbastanza tecnico il segreto di riverview college anche questo è molto carino mondo tarocco è un romanzo che parla di tarocchi anche questo è carino comunque c'è la recensione sul mio canale spiriti inquieti yokai quindi gli spiriti giapponesi pronti a credere i fantasmi invadono torino anche questo è molto carino trovate la recensione al di là del fato è un libro che ho comprato secoli fa ma che ho letto soltanto in parte poi magari lo leggerò bene dall'inizio alla fine una coppia come tante è la storia di una coppia in crisi però messo un po' in chiave ironica quindi carino il vostro medico questo è un libro che era di mio nonno vecchissimo e che io ho tenuto giusto perché è un suo ricordo ma naturalmente sono libri obsoleti rose al veleno queste sono storie di stalking un libro piuttosto duro i misteri di chowl kill anche questo è molto carino l'ospite questo è bellissimo avevo fatto la recensione piccole donne un grande classico archetipi delle donne in questo caso ho fatto la recensione vi avevo parlato anche del mazzo di tarocchi associato al libro le idee dentro la donna l'avevo letto anni fa però vorrei rileggerlo ho lasciato la mia anima al vento è un libro che mi ha aiutato l'anno scorso a superare il lutto di mia nonna teddy un libro molto bello fatto bene che mi aveva regalato mia cugina non dire una parola una storia particolare ma è carina l'italiano senza errori questo l'avevo trovato forse allegato ad una rivista non mi ricordo ma ce l'ho da un sacco di tempo poi armi acciaio e malattie è un libro che avevo comprato ai tempi dell'università perché faceva parte di un testo d'esame però l'ho tenuto perché è veramente carino hyperversum un libro che mi è piaciuto molto e ce ne sono in particolare tre volumi che fanno parte della prima saga li ho letti tutti e tre e mi sono piaciuti poi il mistero dei templari i cavalieri che fecero l'impresa di pupiavati questi due non li ho ancora letti un sacco di botte un libro illustrato che parla della gestione dell'aggressività soprattutto nell'adolescenza riti e magie delle campagne un libro che parla degli antichi rituali di magia nella campagna comunque tutte quelle credenze popolari è molto carino odissea adattata in prosa per tutti è l'odissea spiegata in un modo molto più semplice rispetto alle versioni classiche il linguaggio dei sogni è un libro che ancora non ho letto me lo avevano regalato ma mi è rimasto in libreria la dieta smart food è un libro che mi aveva consigliato mio zio parecchi anni fa ed è interessante perché fornisce comunque delle informazioni legate al cibo le cose che mangiamo quindi è interessante psycho 1 e 2 poi storie del terrore da un minuto questo lo avevo comprato anni fa nel periodo di halloween da delle stelle e dei pianeti era un libro di mio nonno che era appassionato di astronomia risvegliare l'eroe dentro di noi un libro molto interessante scene da un manicomio racconta come erano i manicomi una volta cinque mila watt di stelle un libro che non mi è piaciuto miti e leggende dell'antica grecia e questo un libro piuttosto interessante anche qua abbiamo mitologia greca jack lo squartatore avevo iniziato a leggerlo però sinceramente non mi stava piacendo granché briciole è la storia di una ragazza che ha problemi di anoressia poi di lucinda riley abbiamo la saga delle sette sorelle anche se qui non ci sono tutti i libri comunque ho la ragazza della luna la sorella perduta poi interrompo un attimo perché qui siccome c'era poco spazio dovevo mettere un libro piccolo l'altra metà delle fiabe molto interessante poi le sette sorelle che è il primo libro poi qui ali nella tempesta la ragazza del sole qui abbiamo storie di luoghi infestati l'amore ai tempi del telefono fisso è diciamo una raccolta di racconti che non riguardano in realtà solo il telefono fisso comunque insomma non è niente di particolare ma nel suo genere può essere carino tu passerai per il camino è la storia di vincenzo pappalettera che era stato deportato in un campo di concentramento il volo dei cuori sospesi questo è un romanzo che parla dell'olocausto però non è una storia vera è semplicemente un romanzo però mi era piaciuto il mondo di Rett è un romanzo un po' particolare perché racconta la storia di via col vento però vista dal punto di vista di Rett che è l'altro protagonista insieme a Rossella Oara la gemella sbagliata un libro che mi era piaciuto poi qui abbiamo una serie di libri della stessa autrice che avevo comprato secoli fa e io tra di voi ti ricordi papà un uomo purché sia uomini altrove praticamente sono delle analisi un po' psicologiche delle relazioni umane tra uomo e donna tra padre e figlia poi questo che è molto carino Mortina qui abbiamo tre libri di arte in realtà questo è di mia mamma però glielo sto tenendo provvisoriamente io il secolo lungo della modernità di Filippo D'Averio e poi di Umberto Eco ho storia della bellezza e storia della bruttezza sono due libri molto interessanti e poi l'ultimo come comunicare con i cavalli in realtà io non sono un'appassionata di cavalli però questo libro lo avevo ricevuto gratuitamente insieme ad un altro e quindi l'ho tenuto però sinceramente non l'ho mai letto perché non è un argomento che mi interessi più di tanto ci sono tanti libri di vario genere ma soprattutto avete visto quanto può essere utile una libreria del genere in una casa piccola come la mia perché ce ne stanno tantissimi io spero comunque di avervi tenuto compagnia come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme